a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ragazzi andremo a fare uno spacchettamento titolo arrivato dalla oblivion quindi avrete capito tutti quanti di cosa si tratta ragazzi sto tenendo tra le mani la seconda uscita di oblivion adesso andiamo ad aprirlo intanto un bel cartoncino grosso che protegge l'edizione e l'edizione stessa è avvolta nella pluriball quindi ottima protezione allora vi faccio vedere ragazzi in tutta la sua bellezza il secondo titolo di oblivion dei profondi guardate intanto che artwork stupendo e anche il back artwork non scherzo per niente questa è la limited in blu ray limitata 100 coppia questa la numero 4 allora prima di andare ad aprire il film ma volevo un attimo parlare un po di esso allora come nasce questo film questo film nasce da un'idea di daria nicolodi che all'inizio voleva realizzare la terza parte della trilogia delle tre madri quindi dopo suspiria e inferno voleva realizzare il terzo film cosa fa si rivolge a luigi cosi che inizialmente si rifiuta dicendo non interferisco con i lavori di dario argento prima poi farà lui la terza parte e io non ci penso neanche l'attrice insiste talmente tanto che lui prende in mano questa idea la stravolge talmente tanto che alla fine daria riconosce nicolodi non riconosce il film e quindi non mette la sua firma neanche nella sceneggiatura e poi un'altra cosa ragazzi quando io sono andato a fare un po di ricerca su questo film il motore di ricerca me lo tirava fuori come il gatto nero e io mi sono chiesto ma perché si chiama il gatto nero il titolo iniziale dovete sapere che è dei profondi ma poi il titolo ufficiale del film è il gatto nero si chiama il gatto nero perché come sapete tutti il film è stato prodotto per la 24 for century americana per un certo goland goland doveva consegnare un pacchetto di cinque film tratti dai romanzi di edgar alan po e il produttore era un certo alan towers ma goland litiga con alan towers e alan towers non realizza il quinto film che doveva essere proprio il gatto nero a quel punto goland chiama luigi cosi e gli dice sai che idea mi è venuta mi è venuta l'idea che il tuo film si chiamerà il gatto nero e lui fa come il gatto nero ma qui di gatto nero cioè non c'entra niente e lui gli fa ma a te non ti preoccupare fa metti qualche scena di un gatto nero all'inizio alla fine che per il pubblico andrà bene luigi cosi dice io non ho potuto fare niente alla fine il produttore era lui e ho dovuto accettare questa cosa e quindi ecco svelato il segreto ragazzi perché il film si chiama il gatto nero ok ragazzi ho parlato già abbastanza adesso andiamo a vedere questo capolavoro e quindi passiamo all'unboxing eccoci qua ragazzi allora andiamo ad aprire questa bellissima edizione come ho detto una collectors in blu ray e all'interno troviamo un poster come ho detto la tiratura è limitata 100 copie e questa è la numero 4 mano al taglierino andiamo ad aprirlo dopo lo metteremo subito all'interno della sua protezione ma non rovinarlo ho perfetto e qui ragazzi possiamo possiamo guardare questo artwork veramente veramente bello slip case molto bella adesso la sfiliamo troviamo l'edizione ovvero la marei allora qui ragazzi il film non è mai stato doppiato in italiano quindi la lingua è solo inglese quindi abbiamo i sottotitoli in italiano tanti contenuti extra fuori dal profondo intervista luigi cozzi durata 18 minuti immagini sospiri galleria fotografica 4 minuti il trailer di due minuti nuova introduzione al film a cura di luigi cozzi prima non l'ho detto ma il film del 1989 e andiamo a vedere l'edizione intanto mi piace tantissimo la serigrafia del disco molto molto bella ragazzi che tanta roba mamma mia allora andiamo a sfilare un attimo la copertina così potremo guardare l'immagine dietro ok dopo lo mettiamo a posto cartolina ragazzi autografata a mano da luigi cozzi con il numero dell'edizione tutto fatto a mano ragazzi il logo dell'oblivion dietro e queste secondo me sono chicche queste sono chicche e adesso ragazzi e adesso ragazzi andiamo a vedere il mega poster che c'è all'interno allora questa è la prima sono locandine del film questo qui adesso c'è la piega che dall'altra parte film di luigi cozzi bellissimo bellissimo poster anche questo grandissimo sapevo che c'era ma non pensavo così grande ok ragazzi io con questo ho concluso l'unboxing prima di salutarvi volevo farvi rivedere un attimo l'edizione perché veramente merita ragazzi veramente merita non so quante ne siano rimaste se sia andata sold out so che ne erano rimaste poche copie e quindi se siete interessati ad acquistarla ragazzi andate sulla pagina facebook oblivion e tramite messenger ragazzi acquistate la vostra copia o se no su ebay da un movies allora ragazzi volevo parlare anche un attimo di alcune discussioni che sono sfociate su facebook allora sentivo parlare dei prezzi dell'edizione c'era gente che si lamentava dicendo che le edizioni costano troppo che loro insomma non comprano a quei prezzi e mai niente a dire ma ragazzi se non volete comprare quelle edizioni non le comprate non le comprate ma non non accusate gli altri di essere dei sommari ho sentito persino questa parola sommari perché fuori si trova meno ragazzi ma queste edizioni qui queste edizioni qui come potete pretendere di pagarle 20 euro come potete pretendere un'edizione del genere di pagarle il 50 per cento del suo costo quando i 35 euro un prezzo più che onesto ragazzi 35 euro un prezzo più che onesto 20 euro come fa il mercato dell'on video a sopravvivere con gente che compra esclusivamente al 50 per cento ovvio che va a morire ovvio bisogna comprare dei one ragazzi se voi non mi mettete nella logica che se noi non compriamo dei one il mercato dell'on video in italia è destinato a soccombere ragazzi qui andiamo verso quella direzione andiamo verso quella direzione ovviamente al 50 per cento ci compro anch'io delle volte perché esce talmente tanta roba che non è possibile comprare tutto qualcosa rimane indietro salvato nel carrello o salvato sempre nel carrello articoli salvati per dopo e ovviamente quando ne ho la possibilità li compro ovviamente se sono in sconto non è che ci sputo sopra lo sconto anzi però compro tantissime edizioni anche al day one cioè queste label qui come fanno a sopravvivere secondo voi se gli rimangono se la gente non lo compra subito e gli rimangono delle edizioni lì dandole al 50 per cento non possono farlo non possono farlo come i titoli della linea classic della midnight factory come fa a comprare a vendere quelle edizioni a 20 euro amazon lo faceva prima ma loro hanno fatto benissimo coach media ha fatto bene a fare un loro a fare un sito tutto loro e a decidere loro il prezzo di vendita hanno fatto benissimo in modo che le edizioni non vengono svalutate compravi un'edizione chi comprava il day one prima 50 e 60 euro poi se la ritrovava a 20 euro non è giusto per chi l'ha comprata subito non è giusto non è giusto e infatti hanno fatto benissimo e io appoggio quelle iniziative lì lì io le appoggio io volevo volevo un attimo anche collegarmi al discorso di italian fill collector channel di roberto che saluto roberto hai pienamente ragione hai pienamente ragione ma di questo passo io non so dove andremo secondo me il mercato dell'home video in italia ai giorni contati per me con questa gente che ragiona in questo modo abbiamo ai giorni contati non c'è niente da fare o si cambia la mentalità o se no la strada è quella lì perfetto ragazzi scusate questo breve sfogo io con questo ragazzi ho concluso il video se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like che non vi costa niente e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti